Buone notizie per chi è senza lavoro, tutto pronto per l'avvio di garanzia giovani seconda fase, il programma europeo diretto a favorire l'occupazione giovanile. A comunicarlo il direttore della CNA di Agrigento, dottor Claudio Spoto, che attraverso una nota dettagliata inviata all'impresa e ai tanti giovani, afferma che tra gli interventi previsti figura la misura 5 che riguarda i tirocini extracurriculari attraverso i quali verranno attivati dei percorsi formativi per un periodo di sei mesi, 12 per le persone diversamente abili e quelle svantaggiate, a contatto diretto con il mondo del lavoro al fine di favorirne l'inserimento o il reinserimento nel tessuto produttivo dei giovani disoccupati e non. La misura 5, conferma Spoto, si rivolge a due bacini di giovani, i net, che devono avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale, essere disoccupati, non frequentare un regolare corso di studi, secondari superiori, terziari, non universitari o universitari, non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione a un albo o un ordine professionale e non essere inseriti in percorsi di tirocinio curricolare o extracurricolare in quanto misura formativa, non nitti che devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Già dal 5 agosto scorso è possibile aderire al programma Garanzia Giovani, seconda fase, quindi è necessario registrarsi al portale Silab Sicilia, compilando il form di registrazione, la sede CNA provinciale di Agrigento, sito in via per Santi Mattarella e le sedi territoriali di Villa Seta, Sciacca, Raffadali, Cassel Termini, Menfi, Ribera, Licata, Canicattia e Real Monte sono a disposizione per seguire e accompagnare i giovani nella procedura. Già in questa prima fase nel contempo raccoglieranno le adesioni delle aziende che vorranno soffrire di questa grande opportunità per accogliere nelle loro strutture i tirocinanti. La CNA tramite le proprie Apple è accreditato come ente promotore al quale viene affidato il compito del matching, cioè di favorire l'incontro tra i giovani e le imprese presso cui svolgere il tirocinio retribuito con fondi pubblici. La soglia massima dell'internità mensile corrisposta al tirocinante è pari a 300 euro oppure 500 euro per i tirocini svolti dai soggetti disabili e da persone svantaggiate.